Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Da questa settimana si incominciano a realizzare i video dedicati a Natale e come già vi dicevo su Instagram questa settimana sarà dedicata ai calendari dell'avvento vi dico già che queste idee non sono idee mie ma le ho trovate nel web ho pensato però di riportarle nel canale perché sono idee molto veloci da realizzare quindi non avete più una scusa per non avere il calendario dell'avvento a casa per il video di oggi ho scelto di realizzare come soggetto un pupazzo di neve allora come materiale per questo progetto ho scelto il filtro quello grosso da 4 mm quello grosso costa circa 1,50 euro al foglio e come vedete la dimensione del foglio è piuttosto grande allora comincio andando a realizzare un cerchio sul mio feltro e questa sarà la base appunto del mio pupazzo di neve o meglio facciamo o meglio del viso del mio pupazzo di neve per fare il mio cerchio o si utilizza un compasso o un oggetto tipo un piatto o un vaso delle dimensioni che può servirci appunto delle dimensioni che vogliamo per il nostro pupazzo quindi io prendo il mio piatto e lo appoggio sopra il filtro vediamo se lo vedete sì realizzo la sagoma e vado a tagliarla ecco qua allora la base del mio pupazzo di neve è fatta adesso andiamo a realizzarli adesso andiamo a realizzargli il cappello il cappello lo vado a disegnare con la matita facendo riferimento alle misure più o meno a quello che potrebbe andar bene alla base della testa che ho appena realizzato e quindi non credo che voi riusciate a vedere il disegno a questo punto ma andiamo a ritagliare la sagoma ok direi che come misura adesso ci siamo vado a creare a questo punto la striscia al cappello e ho scelto di realizzarla in arancio quindi a questo punto uso il mio cappello come riferimento e anche il disegno che avevo realizzato prima e crea una striscia mettiamo da parte l'arancio perché poi mi servirà di nuovo e a questo punto la striscia del cappello è pronta preparo a questo punto il naso e gli occhi del pupazzo do anche a questo pezzettino di feltro la forma appunto arrotondata della carota il nostro pupazzo sta prendendo forma e per ultimo vado a realizzare anche gli occhi io vado a tagliarli un po' a occhio ma se non siete sicuri realizzate prima una sagoma e fate la prova utilizzando la sagoma di carta io ho realizzato anche gli occhi il mio pupazzo è completato ora devo solamente incollare tutti i pezzi e realizzare i numeri dunque per incollare io vi consiglio di utilizzare una colla a caldo io utilizzo questa colla qui perché ho questa a portata di mano per disegnare i numeri vado ad utilizzare i miei colori per finestre, per vetrofanie e questi rimangono un po' fluffy come si dice, un po' rialzati diciamo e quindi trovate il video, ve lo lascio qua era un video dedicato a Pasqua comunque vi lascio il modo per poterli realizzare qui e anche il link giù nell'info box e vado a segnarmi tutti i numeri dall'1 al 24 molto bene adesso lascio asciugare i numeri e dopodiché andiamo a fissare anche il nostro nasino la nostra lancetta dunque ho atteso che si asciugasse completamente la colla adesso vado a realizzare gli ultimi dettagli nel frattempo è arrivato anche il nostro assistente e quindi dicevo andiamo a realizzare gli ultimi dettagli quindi andiamo a prendere i pezzettini da incollare questa volta utilizzo la colla a caldo allora partiamo con il fiocchettino che è quello che va messo sotto e vado ad incollarlo appunto sulla parte inferiore del mio pupazzetto di neve ora vado ad attaccare questo fiocchettino invece sul cappello e voilà scotta faccio un altro giro eccoci qua ora devo bucare la carotina qua e anche il naso inserisco il mio pezzettino di ferro io ne ho realizzato uno da sola perché quello che avevo l'ho appena rotto quindi uso questo voi utilizzate i soliti gancetti classici e poi vado a fissare il gancio e quindi riprendo il mio colore nero vado a creare delle piccole strisce sul naso in modo da creare le venature della carota e infine un bel sorriso questa la giriamo un pochetto ecco qua ultima cosa il gancetto per appenderlo che quasi mi dimenticavo quindi con la caldo il gancetto ecco fatto ecco qua il nostro calendario dell'avvento è ultimato questo vi ricordo è il primo progetto per i prossimi vi aspetto nei prossimi video nel frattempo lasciate un mi piace al video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video ciao ciao Grazie a tutti.